I finanzieri del Comando Provinciale di Roma e i Carabinieri del Ross hanno dato esecuzione questa mattina ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 persone coinvolte nel fallimento della Arc Trade SRL, società già al centro dell'inchiesta ENAV Finmeccanica. Le indagini hanno fatto luce su complesse operazioni di bancarotta fraudolenta, falsa fatturazione, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. A finire in manetta il commercialista Dominus dell'Arc Trade SRL Marco Iannilli, già al centro dell'inchiesta ENAV, assieme all'AD Paolo Pugliesi e al direttore commerciale di Selex Maglio Fiore. Le indagini avevano infatti dimostrato che l'ENAV assegnava commesse senza alcuna gara pubblica alla Selex Sistemi Integrati S.P.A. del gruppo Finmeccanica, la quale poi li subappaltava ad altre società, tra cui proprio l'Arc Trade SRL, deputati a costituire i fondi neri necessari per remunerare vari soggetti in grado di influire sul processo di affidamento dei lavori stessi. Oltre a Marco Iannilli è stato arrestato anche David Romano, formale amministratore della stessa società, nonché tre parenti di Iannilli, i cognati Maurizio Caracciolo e Nicola Gargiulo del cugino Roberto Caboni, quest'ultimo già tratto in arresto nel 2010 con Iannilli. L'accusa per i parenti di Iannilli è quella di aver concorso nelle operazioni di bancarotta patrimoniale. Gli altri arrestati sono Gianluca Ius, Simone Pasquini, Cristian Palmas, Massimiliano Damiano e Sebastiano Giallongo, tutti accusati di aver costituito società fittizie che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti dell'Arc Trade SRL, con il fine di svuotarne le casse. Tra gli indagati ci sono anche Lorenzo Cola e Tommaso Dilernia. Cola è in qualità di superconsulente della Holding della Difesa, Dilernia quale titolare della Print System SRL, società che come l'Arc Trade riceveva in subappalto lavori assegnati alla Selex, sistemi integrati SPA dall'ente assistenza al volo.